Una diagnosi addetta dai familiari non corretta e scatta la richiesta all'ausla di un risacimento di un milione di euro. Ha solo una brutta sinusite, basta un intervento e si rimetterà presto le parole pronunciate dai medici ad un 45enne della Val Marecchia, che dopo pochi giorni però è morto. Adesso la famiglia, tramite l'avvocato Pierpaolo Piccinini, chiede giustizia. La vicenda risale a novembre del 2017. L'uomo, un operaio di 45 anni, padre di una bimba in tenera età, si presenta al pronto soccorso dell'ospedale infermi di Rimini con fortissimi dolori alla testa. Viene sottoposta ad alcuni accertamenti che fanno emergere una cefalea negativa a lesioni parenchimali. Viene tenuto al pronto soccorso per una notte e alla fine la diagnosi è sinusite frontale, una sinusite che però necessita di un intervento chirurgico. L'operaio viene così trasferito all'ospedale di Cesena per essere sottoposta all'operazione. Dopo l'intervento resta ricoverato per tre giorni, ma poi viene trasferito nuovamente agli infermi di Rimini, dove la mattina del 25 novembre 2017 muore. I genitori del 45enne sconvolti decidono di affidarsi all'avvocato Pierpaolo Piccinini che subito scrive all'Auslo Romagna per avere chiarezza su quel decesso improvviso. Viene disposta l'autopsia dalla quale emerge che il 45enne è morto in seguito a trombo e embolia polmonare. Molto probabilmente l'uomo era già stato colpito da un'occlusione acuta di più vasi arteriosi del circolo polmonare invece che affetto da una sinusite. Da qui la decisione dei familiari di avviare una causa civile contro l'Auslo per responsabilità contrattuale per colpa medica e chiedere un risarcimento di un milione di euro.